Buongiorno e benvenuti al Tre Fontane di Roma e Roma contro Sassuolo, seconda giornata della Pool Scudetto. Si accede ancora la spia rosso di pericolo nella difesa di Sassuolo, dove punta Orsi, arriva al cross, secondo palo Giuliano, questa volta arriva a chiudere, al politessa che non crea particolari problemi a Duran. Giacinti e Filangeri, Filangeri cerca la rimessa, la regala Giacinti che va dentro da Giuliano, in area di rigore, Giuliano! Gol meraviglia della Roma con Emanuela Giuliano, è cambiata la storia della partita, 1-0 Roma al minuto 33 con l'ottavo centro in questo campionato di Emanuela Giuliano, un gol da 10. Nasce tutto da un errore di Filangeri, adesso lo fa Giuliano la parte finale, ma conta per prima cosa il controllo, se la sistema con Play Troop che non le toglie spazio. Sonstevold, altra palla dentro per Giacinti, palla che sbuca, Pondini, poi Greggi raccoglie, Greggi, con una mano prima, poi raccoglie, Duran. Va Giuliano, Sonstevold e Missipo, salva sulla linea dopo l'uscita a vuoto di Duran. Roma vicina, gole 2-0. Sonstevold, arriva al cross, Missipo con la mano, calcio di rigore. Calcio di rigore, adesso solo dicono, è fuori. La Roma, questo è l'intervento di Missipo, che sembra essere fuori. Manca il fischio. Che arriva ora. Va Giuliano, spiazzata Duran, 2-0 Roma, la doppietta. Emanuela Giuliano. Sai, la quota? 9 centri nel campionato. Ancora lontano quello che è il suo record personale, 15 gol. L'ha regalata Pondini. Anticipo di Linari, occhio a Vianna. Larga Ceove, cercata invece Giacinti, in area di rigore. Giacinti, prova a piazzare il destro. Eccolo il gol di Valentino Giacinti. Cala al 3-6. Probabilmente sono già arrivati i titoli di coda, al minuto 58 su questa partita. Davanti alla porta è una sentenza. Ballone che le resta inizialmente leggermente all'indietro. Poi apre il piattone. Ammette dove Durano un po' assolutamente arrivare. Poi ancora Roma, Tomaselli. Pilgrime. Può andare in porta Pilgrime. Il cross per Giacinti. Qualcosa che è a metà tra un tentativo di tiro. È uno di dribbling. Kulashi prova ad andare via di forza. Shabiga. Poi Kulashi se la ritrova. Kulashi, in area di rigore. Kulashi! C'è Hazard, dice no. Non vuole regalare nulla al Sassuolo. Resta zero la casella. Gol per il Sassuolo. 3-0 allo scorre finale.